selezioniamo 4 mm e diamo ok ecco che abbiamo la nostra filettatura smussiamo anche la parte interna, lo spigolo interno con un raccordo di mezzo millimetro e finalmente abbiamo la nostra filettatura finta applichiamo il materiale selezioniamo alluminio selezioniamo l'oggetto e diamo ok e attiviamo anche la visualizzazione del materiale ecco fatto la base della nostra caffettiera è terminata quello che volevamo dire all'inizio del filmato è che questa parte, questa filettatura non è una vera e propria filettatura tanto è vero che l'abbiamo ottenuta con una scanalatura le vere filettature si eseguono con questo comando filettatura con questa tabella, con questa finestra di definizione è possibile ottenere filettature interne, come in questo caso il sistema riconoscerà automaticamente a seconda della parte selezionata se selezioneremo questa parte qui, allora la finestra di definizione sarà di questo tipo qua se verrà selezionata una parte cilindrica esterna, allora la finestra di definizione cambierà e si potrà avere la filettatura di un perno qui possiamo imporre il tipo di filettatura